Signore e signori, benvenuti al muro del pianto. Evoluzione della concezione dei soldi. I banchieri ci danno in prestito i nostri soldi, soldi che prima hanno stampato dal nulla e che quindi dobbiamo ripagare tramite l'inflazione, raggiungendo anche degli interessi i quali vengono riscossi dallo Stato sotto forma di tasse. Tutto questo porta, come ovviamente era pianificato, alla schiavitù del mondo, tramite la plutocrazia. La plutocrazia è il predominio di gruppi finanziari che grazie all'ampia disponibilità di capitali sono in grado di influenzare i rispettivi governi. Concludiamo con una citazione di Henry Ford. Se le persone comprendessero il sistema finanziario e bancario, ci sarebbe una rivoluzione prima di domattina. Buone ricerche e buona serata.